Potrà essere visitata fino a giovedì 9 giugno prossimo la mostra letteratura in arte allestita nell'auditorium dell'Istituto Scolastico Enrico Fermi, sede di Macchitella. La storia della letteratura tra l'Ottocento e l'Ottocento, menzionata attraverso le opere realizzate dagli studenti del Liceo Artistico dell'Istituto Industriale Ettore Maiorana, diretto da Mirella Di Silvestre. Le opere di Manzoni, Leopardi, Verga d'Annunzio, Pirandello e Svevo sono state raccontate attraverso le stoffe, gli abiti, numerosi accessori e quadri. I ragazzi hanno trovato le connessioni fra le varie forme di arte, una delle quali è la letteratura, ma connessioni con la pittura, con la scultura, con la moda e hanno creato delle opere uniche, sicuramente di grande rilievo, piene della loro sensibilità e di tanta creatività. Abbiamo cercato di tracciare un percorso che comprenda la letteratura tra Ottocento e Novecento, quindi abbiamo trattato dal romanticismo a Pirandello. Gli alunni sono stati molto attratti dalle tematiche pascoliane, infatti come potete poi vedere, Pascoli è stato molto approfondito. Sono i punti di partenza delle loro tesine multidisciplinari e questo è un progetto che ha coinvolto tutte le discipline. Siamo partiti dalla letteratura, però in realtà sono state coinvolte le discipline pittoriche, plastiche, di moda, design. Infatti sono stati anche realizzati dei vestiti in erendia le tematiche letterarie, dalla monaca di Monza al nido pascoliano, la pioggia nel pineto e tutte le altre poesie che abbiamo trattato durante quest'anno scolastico.